Questa è una bellissima rana saltellante. Per fare questa rana saltellante ti serviranno dei magneti ad anello, una gomma, una cannuccia e una rana disegnata su un cartoncino. Prendi la cannuccia e inseriscila dentro la gomma. Ora prendi i magneti e inseriscili intorno alla cannuccia in modo che ciascun magneti rispinga l'altro. In questo modo hai creato una molla magnetica. Ora attacca con dello scotch la rana al primo magneto della fila. Se premi il magneto superiore con la rana giù e poi lo lasci andare, la rana salterà. Un gioco davvero molto divertente. Più alto è il numero dei magneti, più in alto salterà la lana. Grazie. 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 Grazie a tutti